Benvenuto a una puntata di Passione Sport. A questo punto questa puntata è dedicata interamente a uno sport paralimpico, il Blind Tennis. Abbiamo ospite due tecnici della nazionale Vitti e Forni e abbiamo il direttore sportivo Tini Lato. A questo punto per chi ci ascolta, perché noi conosciamo il Blind Tennis, però per chi ci ascolta come descrivereste il Blind Tennis? Il Blind Tennis è uno sport adattato nel tentativo di far giocare, nel tentativo riuscito di far giocare a tennis anche i non vedenti e gli ipovedenti. Gli adattamenti che sono stati fatti sono stati fatti in maniera tale da consentire ai non vedenti di giocare, ma con grandissima autonomia. Gli adattamenti maggiori sono il campo ristretto e una pallina sonora a cui si dà la possibilità di fare tre rimbalzi prima di colpirla e questo consente loro di giocare con, come dicevo prima, grande autonomia, quindi senza l'intervento durante il gioco di un ormo dotato. L'unica presenza è quella dell'arbitro che gestisce il punteggio come in una normalissima partita di tennis. Per gli ipovedenti i rimbalzi cambiano, quindi a seconda delle categorie B2 o B3 sono tre rimbalzi per i B2 e due rimbalzi per i B3, il campo è più grande, è quasi un campo regolamentare da tennis e la pallina è sempre uguale, sempre sonora, si avvicina ancora di più al tennis, tra virgolette, normale. Questo è un po' l'essenza del blind tennis. Sì, se posso aggiungere io, per i non vedenti, quindi per la categoria B1, le righe sono formate da delle corde, vengono applicate delle corde in modo tale che il giocatore tramite il tatto, quindi tramite i piedi, riesce a capire in che posizione è nel campo. Giocano con una racchetta più piccola, i non vedenti, ma anche gli ipovedenti, ed è la racchetta che si utilizza quando si incomincia a giocare a tennis, nel tennis tradizionale, che viene chiamata a una misura che viene classificata come 23 i B1, i B2 e i B3 ipovedenti, possono utilizzare anche la 25. La pallina è una pallina un po' più grande della pallina da tennis, ci sono dei sonagli all'interno e quindi ovviamente quando rimbalza emette un suono e quindi soprattutto questo importante ovviamente per i non vedenti riescono a capire la direzione, la profondità della palla per poi andare a colpire la pallina. Io a questo punto mi ricollegherei, voi siete stati presenti nei nostri giorni, in questi giorni passati, ad Ascoli per due giorni di full immersion. Come vi hanno accolto la città? Abbiamo visto che c'è stato molto interesse, molti giovani, cioè alla fine abbiamo notato tanta belle cose e che vi aspettiamo di nuovo a giocare ad Ascoli. Vai Gregorio. L'accoglienza è stata calorosa, l'associazione Porta Romana è stata molto efficiente nel aiutare i giocatori, anche noi, nel trasferimento dall'albergo ai campi di gioco, i campi di gioco erano in ottima condizione, quindi anche i circoli, il tennis a Scolani, il Ct Piceno è più accanto, che adesso non ricordo il nome, proprio quello frontaliero rispetto al Ct Piceno, sono stati molto gentili, ci hanno accolto, i campi erano in perfetta condizione. È venuto anche qualche spettatore e l'amministrazione comunale, tramite l'assessore e altri membri della giunta, l'assessore all'esporto e altri membri della giunta, tra cui anche il vice sindaco, ci hanno tenuto a presenziare. Insomma, in qualche modo la cittadinanza ha sentito la nostra presenza ed è stata una bella esperienza, insomma, partecipata. Mentre parlavi, scorrevano alcune immagini della giornata che abbiamo vissuto, che avete vissuto ad Ascoli, io invece un pochettino sul quale difficoltà si incontrano ancora oggi nell'organizzare gli eventi, ma soprattutto le giornate di campionato, perché poi parliamo di campionati, se ci sono, se esistono ancora problemi. No, ma direi proprio di no. Nel momento in cui il Blind Tennis, un paio di anni fa, è finalmente rientrato nella Fispic, grazie all'interessamento del presidente della Fispic, Sandro Di Girolamo, devo dire che poi tutto è partito molto bene dopo il Covid. Il Covid ci aveva un po' fermato, ma sono partiti corsi di formazione per nuovi tecnici, tornei, quindi le prime due tappe del campionato italiano. Quindi il movimento è attivo, sta progredendo sempre di più, non ci sono grosse difficoltà nell'organizzare queste manifestazioni. Proprio da Ascoli l'Associazione Sportiva Porta Romana si è candidata per organizzare l'evento e l'abbiamo organizzato, direi, in maniera al meglio. Ma ci sono anche molte realtà sportive che richiedono adesso l'organizzazione di questo tipo di manifestazione. Nell'allenare ci sono tanti giovani oppure i giovani stanno cominciando a crescere ad arrivare a questo sport oppure ancora ci sono gente un po' più attempata? Allora, il grosso degli atleti ha ancora una media di età un po' elevata. Si stanno avvicinando dei ragazzi è un discorso di promozione che stiamo provando a fare insieme a FISPIC nelle varie città, nelle varie regioni italiane. È chiaro che ci vorrà un po' di tempo e in questo, come diceva prima Paolo, aver iniziato a fare corsi di formazione per nuovi tecnici è la chiave di volta per poi riuscire a coinvolgere giovani, cioè avere persone formate per insegnare questo sport e portarlo quindi conseguentemente nelle scuole, nei centri dedicati, presso le associazioni, quindi farlo conoscere e divulgarlo. Sono dei passaggi che stiamo facendo in questo. È una delle cose in cui sicuramente il Covid ci ha rallentato perché chiaramente abbiamo avuto un paio d'anni in cui promozione è stata praticamente impossibile farne. ora stiamo andando stiamo andando anche abbastanza velocemente. Però un po' alla volta arriviamo. Sì, c'è da dire anche che noi conosciamo le eccellenze tra virgolette dei non vedenti, nel senso che c'è tutto un mondo purtroppo ed è il maggior numero di queste persone che continua a rimanere in casa, a uscire poco, c'è anche una sorta a volte di vergogna. Quindi noi per il momento prendiamo quei giocatori che prevalentemente vengono da altri sport, soprattutto dal baseball, per non vedenti, e si possono classificare come eccellenze, sono persone autonome ma anche nel mondo del lavoro. Però con il lavoro che stiamo facendo ripeto, grazie alla Fispitch dovremmo riuscire ad allargare poi il numero di praticanti su questa disciplina. Credo posso aggiungere che l'obiettivo del Blind Tennis sia dare autonomia a chi lo pratica. Quindi autonomia che non è solo sul campo, è anche esterna al campo. Per cui il fatto che giustamente le famiglie magari tendono a proteggere il proprio un figlio che magari ha un problema visivo più o meno grave e invece farle capire che attraverso una pratica sportiva si possono guadagnare grandi autonomie e migliorare molto anche la vita la quotidianità. Ecco volevo fare una puntualizzazione prima ho utilizzato il termine vergogna ma nel senso che molti non escono ma perché ritengono di non poter affrontare il mondo esterno ecco in questi termini quindi noi dobbiamo cercare di far uscire sempre più persone anche perché è una disciplina che può essere giocata da tutti i non vedenti e i povedenti ecco è una cosa che noi ripetiamo da anni questa cosa non chiudeterlo a casa perché chiuderlo e metterlo in un'ampolla di cristallo non serve a nulla né al ragazzo e non permette di socializzare ma soprattutto vivere una vita normale perché la disabilità siamo un po' tutti disabili sul mondo io non so fare una cosa posso essere inabile a fare quella cosa ma non è perché sono un attreta fenomenale sono un grande attreta però a questo punto vorrei domandare a livello tecnico quale tipo di lavoro deve quale caratteristica deve avere un direttore tecnico ma soprattutto quale lavoro deve svolgere per far bene per far crescere e poi al ragazzo alla fine adesso parlo della mia esperienza a livello tecnico il tennis anche anche il tennis adattato è uno sport che richiede una capacità di movimento molto varia ci sono spostamenti di vario tipo è uno sport di situazione in cui la palla non si sa mai dove si trova e va ricercata attraverso l'analizzatore acustico in questo caso e bisogna muoversi con degli spostamenti molto rapidi di tipo diverso da quello che potrebbe fare un non vedente nella sua vita quotidiana che sta probabilmente molto accorto e sempre in direzione lineare anche per questo è interessante questo sport proprio per a maggior ragione perché consente una capacità di movimento molto 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 varia a livello tecnico i requisiti che si cercano di le abilità che si cercano di sviluppare di più sono quelli dell'equilibrio e quella della rapidità e della coordinazione ovviamente suono mano e piede oltre agli aspetti tecnici è utile conoscere un po' conoscere dal tennis noi personalmente veniamo dal tennis ma non tutti i tecnici sono tecnici di tennis i nuovi tecnici di blind tennis non tutti provengono dal tennis credo sia utile ma non è un requisito necessario ovviamente occorrono anche doti di comunicazione che noi abbiamo sviluppato sul campo con delle persone che hanno dei problemi di questo tipo non è la stessa cosa anche se bisogna dire che tutti questi giocatori sono molto apprezzati perché non non si presentano in campo nella loro attività sportiva in qualche modo caratterizzati dalla loro disabilità sono atleti a tutto tondo e persone orgogliosamente affrontano questa esperienza come le altre come tutti quanti noi come tutti quanti noi in qualche modo non sono per nulla caratterizzati nei rapporti interpersonali e nello sviluppo del gioco anche dalla dalla loro disabilità visiva io vi vorrei chiedere da tutte le manifestazioni tutte le partite che finora avete fatto disputare se vi dovessi chiedere quel momento in cui in realtà vi ha lasciato un pochettino non con il sorriso in bocca perché vi siete voi stessi emozionati in quel momento perché in fondo vi ha sorpreso e vi ha emozionato e siete rimasti proprio felici di tutto quello che avete fatto avete raggiunto un obiettivo che era quello lì che vi avete prepissato ma l'avete raggiunto con il sorriso qual è questo momento se c'è ma ora i momenti sono tanti probabilmente nella prima tappa al Lignano in sabbia d'oro abbiamo fatto in che periodo abbiamo febbraio in febbraio in febbraio è stata la prima tappa sicuramente la finale femminile tra la Pierri e la parente è stato un incontro molto emozionante che è finito al tie break del terzo set il punteggio esattamente come quello come quello del tennis e lì ci siamo emozionati molto anche perché ha una caratteristica il blind tennis ovviamente chi è al servizio alla battuta ha un vantaggio enorme poi si possono raggiungere due tre quattro cinque scambi anche a volte però molto spesso c'è il servizio e poche volte si risponde però questo dà un ulteriore fascino a questa disciplina nel senso che le partite arrivano sempre si è sempre quasi sempre in parità quindi si arriva quasi sempre al tie break che è il il game lungo che si gioca o sul quattro pari come facciamo noi nel tennis tradizionale lo si gioca sul sei pari e quindi si fa poi un tie break che arriva o ai sette punti o ai dieci punti e quindi le partite sono sempre molto al limite molto al limite quindi si brecca una volta cioè vuol dire che strappiamo il servizio all'avversario ma poi in quella partita ci sono stati tanti capovolgimenti e lì ci siamo resi conto che dopo anni di lavoro questo è un progetto partito nel 2016 qui alla Virtus Tennis Bologna ci siamo resi conto che dopo questi anni ci sono stati davvero dei progressi importanti ecco è la prima volta all'Uniano che abbiamo visto davvero a volte anche 4-5 scambi e questo ci ha ci ha emozionato molto anche perché vuol dire che il lavoro è stato fatto in maniera quantomeno corretta via e con passione e con passione se posso aggiungere una cosa un altro fattore che ci ha emozionato è la stessa emozione dei giocatori i giocatori erano molto emozionati e molto contenti della partecipazione e anche perché ha vinto del successo anche lo spirito di squadra ci sono giocatori che sono arrivati dalla Sardegna dalla Sicilia anche il fatto che fossero tutti in gruppo e molto molto allegri e anche con un tifo molto caloroso dei compagni sugli spalti il fatto che ci fosse questa atmosfera così calorosa gioiosa ma anche emozionante proprio nella partita di tensione agonistica e questo ci ha trasferito certamente una grande emozione a noi stessi aggiungo una cosa che è stata successa a me sabato perché in quel campo c'ero io quindi loro non l'hanno vista sono arrivati dei ragazzi di Astoli fra cui un ragazzo di Povedente che mi ha chiesto di fare due palleggi e io dico va bene voleva provare abbiamo provato ho fatto due palleggi finito ci aveva quasi la mezza lacrima perché lui ha detto io a vent'anni che non toccavo la racchetta sono stato ho giocato a tennis a buon livello poi mi è venuta la malattia e da lì non ho più giocato a tennis è la prima volta che riprende in mano la racchetta beh lì mi ha emozionato parecchio proprio vedere questo ragazzone perché poi era bello alto grande impostato di 40 anni 38 40 anni non so quanti anni avesse più o meno emozionarsi così tanto per aver ripreso in mano la racchetta beh l'emozione che per me c'è qualche genitore che nel tempo è arrivata lì è arrivata titubante ed è uscita più contenta di voi nel vedere il ragazzo giocare è capitato? No ancora non c'è ancora non abbiamo avuto ancora questa fortuna tra virgolette purtroppo non arrivano per ora i giovani per ora purtroppo abbiamo poi abbiamo fatto dei tentativi organizzato anche delle giornate promozionali però devo dire che e ne possiamo costringerli ovviamente quindi non sono arrivati ancora a giochi il tentativo che stiamo facendo si è stata organizzata delle giornate promozionali anche proprio nei giorni a cavallo del torneo a cui hanno partecipato come atleti dimostratori proprio dei giocatori della seconda tappa del campionato italiano di cui stiamo parlando disputata ad Ascoli e nei licei romani e se ne stanno anche promuovendo altre in altri luoghi scolastici perché è quello poi il luogo dove si può far conoscere meglio questo sport e si può anche suggerire e aggiungo io stiamo cominciando a pensarlo e a farlo una qualche interazione proprio nel gioco fra i ragazzi e gli atleti non vedenti e soprattutto i povedenti forse un po' più facile nella scuola che possano giocare tra di loro perché il mini tennis in fondo è uno sport che può essere giocato anche in ambito scolastico se si aggiunge la palla sonora nulla vieta che possano giocare vedenti nella scuola con non vedenti e ipovedenti e quindi questo oltre a essere qualcosa di molto bello consente una pratica sportiva tutti insomma e svolta insieme a questo punto a questo punto noi facciamo un appello a tutti i genitori che il tennis è bello il tennis è bello è divertente non ci si fa male si tira una pallina ed è bello certo è uno sport che possono praticare tutti si può praticare a tutte le età e proprio in questo in questo è straordinario come gioca tanto più il blind tennis dove davvero è uno sport tra l'altro non ha non ha non ha pericoli non ha assolutamente non ha controindicazioni anzi solo buone indicazioni come dato così dal 2016 che avanti questo progetto non abbiamo mai avuto un infortunio di nessun tipo e in effetti è una statistica incredibile quindi va secondo me che oggettivamente è uno sport calare abbiamo avuto no no c'è quello che sto per dire abbiamo avuto semmai atleti che spinti dalla motivazione hanno migliorato la loro forma fisica che si sono presentati in molto molto sovrappeso e hanno perso 15 kg un ragazzo che si è presentato classificato terzo ad Ascoli ho visto persone più felici da quando hai iniziato ad oggi perché dal 2016 come è cresciuto il movimento perché la crescita è sempre graduale secondo voi può ancora deve crescere ancora comunque dall'inizio ad oggi quanto è cresciuto effettivamente questo movimento e qual è l'obiettivo finale adesso che vi ponete abbiamo iniziato dove c'erano pochissime realtà c'era Bologna Pordenone qualcosa si faceva ad Aosta e qualcosa a Milano soprattutto nel nord Italia al sud non c'era assolutamente non c'era nulla praticamente nulla negli anni noi abbiamo anche prima di entrare nella Fispic abbiamo organizzato qui a Bologna comunque dei tornei dove partecipavano l'Italia devo dire che il grande cambiamento è stato quando siamo entrati ma lo dicevo prima nella Fispic è la Fispic che ha incominciato a promuovere questa disciplina su tutto il territorio italiano e allora si siamo spostati giustamente al sud e quindi lì abbiamo coinvolto regioni come l'Abruzzo la Sicilia la Campania la Sardegna e quindi adesso direi che è distribuito in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale i numeri non sono ancora straordinari adesso io numericamente non so neanche dire quanti quanti sono i praticanti posso dire che a Liniano c'erano 35 atleti iscritti tra non vedenti e provvedenti ad Ascoli un po' meno ma probabilmente sono stati 20 25 però era impensabile fino a 3-4 anni fa avere 30-35 atleti in una manifestazione quindi gli obiettivi è quello sempre di aumentare di aumentare sempre di più il numero dei giocatori e soprattutto di diventare una disciplina paralimpica di poter partecipare le prossime Olimpiadi o quelle che quelle che che verranno e poi il la mentale per allargare il il numero dei giocatori si può dire qualcosa dell'attività internazionale che effettivamente sta crescendo e ci sono diversi paesi che hanno come l'Italia hanno incorporato il blind tennis dentro le federazioni nazionali che è un requisito per poter poi far partecipare alle Olimpiadi avere una federazione siamo nel comitato paralimpico anche se non è ancora uno sport che si disputa alle Olimpiadi si spera a Parigi di essere dimostrato però ci sono stati diversi tornei internazionali amichevoli mentre ce ne sarà uno importante a cui hanno partecipato anche giocatori italiani tra l'altro molto ben figurando abbiamo un giocatore di classificato B2 significa ipovedente abbastanza importante che è che vince ha partecipato a un torneo a Orlando in Florida si chiama Davide Viglianti ha vinto oltre che è poi vincitore di questa di questa tappa di Ascoli ha vinto il torneo internazionale di Orlando ha vinto un torneo a Londra in Augusta Australia in occasione degli Australian Open uno dei tornei più importanti di tennis è uno dei tornei del circuito slam che si è disputato a gennaio e c'è stata a Latere un piccolo torneo esibizione che è trasmesso visto in tutto il mondo da di atleti non vedenti e quindi la diffusione e la visibilità anche di questo sport comincia a essere maggiore ci sarà ad agosto quello che è il campionato mondiale considerato il campionato mondiale di blind tennis a Middlesbrough in Inghilterra nell'ambito delle discipline dell'IPSA se vuoi dire qualcosa tu Alessandro su questo e nell'ambito di una sorta di campionato mondiale di tutte le discipline per non vedenti e ipovedenti organizzate organizzate IPSA esatto organizzate IPSA e quindi questa cosa il fatto di partecipare come blind tennis in maniera ufficiale a questa manifestazione è importante perché è un primo passo per arrivare a essere sport almeno dimostrativo a Parigi 2024 eventualmente oltre anche sport ufficiale e i passi sono stati fatti in questo noi dobbiamo ringraziare molto FISB per averci accolto come federazione e per portare avanti un discorso di promozione importante anche nella formazione come dicevamo prima poi fondamentale perché se anche facciamo divulgazione ma poi sul territorio i ragazzi non trovano gente formata per fargli praticare questa disciplina diventa si rischia un po' di seminare al vento però in realtà questi passi sono stati fatti grazie a FISB che è importante Sì l'ultima domanda Sì dimmi ti ascolto No dobbiamo ancora risolvere alcuni problemi riguardo le spese che comporta questa questa disciplina comunque noi abbiamo un grosso problema con il blind tennis che è il reperimento delle palline e sembrerà sembrerà strano ma le palline noi dobbiamo acquistarle dal Giappone dove è nata la disciplina degli anni 80 non ci sono aziende in Italia che che costruiscono che producono questa questo tipo di pallina ed ha un costo molto elevato noi ancora oggi la pallina va sui 10 euro cada una quindi questo è un problema che dobbiamo Sandro di Gerolamo si sta attivando per riuscire a risolverlo ma dobbiamo trovare più presto un'azienda che incomincia a produrre e ci aiuti su questo su questo punto che è fondamentale perché ovviamente la pallina diventa diventa difficile anche per me anche perché sono deperibili come le palline da tennis normali dopo un po' non sono più utilizzabili facciamo un appello quindi alle aziende a qualcuno che ci produca palline vi ringrazio intanto per essere stati ospiti buona serata e ricordavo che a volte spesso ai giocatori non si chiede una cosa che tutti oltre a chiedere hai vinto spesso volentieri ci dimentichiamo ma ti sei divertito no no è fondamentale tale sarebbe questo questo tutti i genitori dovrebbero dovrebbero impararlo ma è complicato è complicato è complicato sì grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!